Roberto, all'Istituto dell'Acqua, tra pochi minuti, il tuo esame di maturità. La sensazione prima dell'esame? Allora, molta ansia, sicuramente. Sono andati bene gli iscritti, quindi sicuramente entro con un po' più di tranquillità. Arrivo con 56 crediti, quindi sotto quel lato lì mi basta poco, anche perché non ho particolari ambizioni per il voto di uscita. Sperando la commissione sia brava nei miei confronti, la preparazione è quella che è, anche perché essendo i primi abbiamo avuto il tempo che abbiamo avuto di prepararci. Però speriamo in bene, speriamo tra poco che tocca a me, quindi speriamo in bene. Corso turistico? Corso turistico. Vai, grazie. Grazie a te.